Siete venuti, cari fratelli e sorelle, come segno della vostra fede in Gesù Cristo, crocifisso e risorto, dalla vostra Chiesa locale, per visitare la Chiesa locale e universale, quella di Roma, che garantisce l'unità della Chiesa. In quest'anno della fede è per venerare i grandi apostoli Pietro e Paolo. Siamo nell'anno della fede, come sapete bene, e siamo anche nell'anno di San Luca, l'Evangelista di quest'anno. Rimangono magari cinque settimane, sei settimane prima dell'inizio dell'Avvento. Dunque, siamo negli ultimi capitoli del Ministero di Gesù, secondo la testimonianza di Luca. Mi piace molto il Vangelo di Luca, che abbiamo seguito insieme in quest'anno della fede. Lui è un atteggiamento molto accessibile, molto suave, ma al tempo stesso esigente. forse voi siete entrati in questa grande basilica, è la seconda più grande, sapete, un po' più lunga di quella di San Giovanni in Laterano. Dunque siamo un po' orgogliosi dalle dimensioni della nostra enorme basilica di San Paolo, ma forse siete entrati attraverso il quadriportico, davanti al grande portone della basilica. E lì dentro, al centro, c'è la grande statua di San Paolo, che ci ha insegnato come pensare e proclamare il Cristo risorto. Lui è il primo scrittore del Nuovo Testamento. Ma in un angolo di quel quadriportico c'è la statua di San Luca, che era molto collegato con Paolo. E stranamente non ci sono gli altri evangelisti. Se vedete dopo, noterete che ci sono tre piedestali, negli altri tre angoli, ma sono tutti vuoti. Siamo in attesa ancora di Matteo, Marco e Giovanni, da cento anni, centocinquant'anni. Però abbiamo Luca. E anche Luca si trova nel grande mosaico dell'abside di questa basilica. Forse potete vederlo dal vostro posto lì. Accanto al Signore, alla sua destra, nel grande mosaico dell'abside, c'è San Paolo. E accanto a Paolo, Luca. Perché? Ma coloro che leggono bene noteranno che il Vangelo di Luca è molto collegato sottilmente alla teologia di Paolo. Dunque, questo è un luogo buono per proclamare il Vangelo secondo Luca e di considerare la sua parola, la parola di Dio, per noi in questa ventinovesima domenica del tempo ordinario. Luca è molto interessato in diversi temi. Uno è la preghiera. Lui ci insegna la preghiera secondo la mente di Gesù in diversi modi. ad esempio, ci sono le preghiere formali, le grandi preghiere della nostra fede, il Magnificat, per esempio, che cantiamo ogni sera all'ufficio dei Vespri. Questo è soltanto nel Vangelo di Luca, o il Benedictus, o il Nuctimitis. anche Lui ci offre una versione del Padre nostro. Poi c'è la prassi di Gesù stesso, molto elaborata nel Vangelo di Luca, in cui vediamo Gesù spesso, nove volte, se non mi sbaglio, nove volte si distacca dalla folla per cercare la preghiera, talvolta durante la notte, indicando il suo bisogno per questa comunione costante con il Padre. E poi ci sono momenti in cui Gesù insegna direttamente agli Apostoli come pregare e poi ultimamente ci sono le parabole di cui abbiamo ascoltato uno oggi. Un'altra cosa da notare e questo pensiero mi viene a causa della parabola di oggi è quanto importanti sono le donne nel Vangelo di Luca. Forse pensate che in un certo modo la nostra Chiesa è dominata dall'uomo, ma sappiamo bene che le donne sono la base stabile della fede e Luca è molto consapevole del ruolo della donna per la proclamazione della fede e vediamo quanto hanno iniziativa forte e coraggio c'è Maria stessa per esempio alla visitazione che fa quella scelta generosa di andare lei stessa già incinta per visitare Elisabetta e poi Elisabetta è lei che decide il nome del figlio e il marito dice un po' debolmente dopo ok va bene lui può avere il nome di Giovanni e poi abbiamo Maria e Marta soltanto in quel modo nel Vangelo di Luca con la forza delle loro personalità sia attiva che contemplativa e poi la peccatrice al banchetto di Simone gli altri evangelisti raccontano quel momento ma nessuno di loro dice ciò che dice Luca che questa donna peccatrice ha potuto dimenticare tutta la pressione sociale per fare il gesto e l'atto di amore nei confronti del Signore e poi abbiamo la donna due settimane fa che ha perso la moneta e con tanto impegno cerca attraverso tutta la casa questa è un'altra parabola di Gesù e poi oggi la vedova ma che brava questa vedova del Vangelo di oggi non per niente scoraggiato dalla di questo uomo duro ingiusto questo giudice però senza giustizia con tutto il potere nel mondo nelle sue mani e questa donna vedova con niente insiste 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 della giustizia e lui concede la donna vince vediamo in lei una determinazione un impegno che può fortemente incoraggiare noi nel nostro cammino vediamo altri aspetti della preghiera nel parabolo di oggi per esempio la resistenza oppure la capacità di aspettare la risposta quella vedova non ha saputo niente del modo di agire del giudice non c'era la certezza di una risposta positiva ma lei ha potuto continuare il suo cammino di insistenza fino alla fine dunque lei è una donna stabile forte costante la preghiera non è facile forse la vita non è facile avete delle preoccupazioni voi delle vostre famiglie siete preoccupati dei vostri figli e che non vengano più in chiesa magari non condividono la vostra fede forse oppure non possono trovare lavoro sappiamo bene che la situazione dei giovani di oggi nel nostro paese non è facile e dunque si perde un pochettino la speranza magari nei confronti del futuro oppure forse non sta andando bene nel matrimonio forse ci sono delle difficoltà nei rapporti non è necessario continuare cari fratelli e sorelle sapete bene che ogni giorno per noi è una sfida consideriamo Mosè nella prima lettura lui sopra la battaglia quotidiana sopra totalmente impegnato con le braccia estese in alto in preghiera mentre i suoi collaboratori hanno condotto la battaglia giù un bellissimo modello della nostra vita dobbiamo impegnarci per affrontare le sfide di ogni giorno però soprattutto c'è questa fiducia nella bontà del Signore che continua ad amarci senza condizione pur avendo un senso di tempo assai diverso dal nostro noi vogliamo una risposta subito vero quando noi preghiamo chiediamo qualcosa e non succede e cosa facciamo iniziamo a perdere un po' la speranza forse lui non ci ama forse non ci ascolta lui fa tutto secondo il suo amore e la sua giustizia e la sua visione del nostro bene e la vedova ha capito ha continuato a pregare con fiducia fino al momento di ricevere la benedizione ma forse un problema con la preghiera è di chiedere le cose giuste se voi chiedete senza rendervi conto un serpente per il vostro figlio cosa farà il signore e non risponderanno darà un'altra cosa non chiesta che per il vero bene della persona e forse non ci rendiamo conto fino a molto tempo dopo magari quanta pazienza dobbiamo esercitare nel nostro cammino di fede e di preghiera c'è un'altra parabola nel Vangelo di Luca nell'undicesimo capitolo e quella parabola è molto simile parla di un uomo che riceve una visita a mezzanotte di un altro amico chiedendo pane ricordatevi e stesso messaggio dovrete chiedere 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 alla fine la persona perdrà la pazienza l'amico o il giudice e risponderà bene e se è così per noi esseri umani quanto di più il Signore ci ascolterà dice il Signore Gesù ma notate ciò che chiedono chiedono nella prima parabola pane e che chiedono in questa parabola di oggi giustizia sono degni pane e giustizia abbiamo la confidenza di chiedere tale cose chiedono cose veramente importanti dunque cari fratelli e sorelle il messaggio di San Paolo per voi oggi il messaggio magari di Luca è di continuare nella fede con pazienza con coraggio anche se non c'è una risposta immediata non perderei la speranza continuate perché niente dice Paolo niente può separarci dall'amore di Dio in Gesù Cristo sia l'ho dato Gesù Cristo grazie